Lunedì e quindi Crypto Week. Ben tornati in questa nuova puntata per quanto riguarda le notizie della settimana che hanno mosso il mercato delle criptovalute e quindi andiamo a guardare cosa è successo in questa settimana e soprattutto cosa possiamo fare andando a guardare le notizie di questa settimana per andare a proteggere e logicamente andare a gestire il nostro patrimonio di investimento proprio nel mercato crypto. E cominciamo con andare a guardare con il market cap che è una capitalizzazione di mercato di quasi 2 trillion, siamo 1.98 trillion anche perché bitcoin è arrivato a 1 trillion dollar, finalmente siamo tornati ad essere sopra il trillion. Dopodiché abbiamo una dominance di bitcoin al 51.8% ed ethereum al 17.6% con un indice fero in grid del 75 su 100. Quindi siamo molto vicini ai top di grid per quanto riguarda l'indice del vecchio altemai. Andiamo a guardare un'oltre bitcoin che ad oggi segna 52.178 dollari con negli ultimi 7 giorni un aumento dell'8.83%, ethereum 2.899 con un aumento del 16.6% e poi abbiamo bnb a 352 dollari con un 11%, solana a 113 dollari con un 8% e così via. Andiamo a guardare l'esatto gainer della settimana e troviamo worldcoin con un 194%, poi hardware con un 62% e hashgraph con 59.29%, bitcoin token 55%. Andiamo a guardare il top loser della settimana, astar con un meno 4.58%, bitcoin cash con un meno 4% e chinlink con un meno praticamente 2%. Guardiamo il prezzo di bitcoin che ad oggi si aggira attorno, come abbiamo già visto prima, attorno ai 52.000 circa dollari e sta proprio toccando, anzi si è fermato proprio sopra questa ultima resistenza che sarà l'ultima resistenza prima di arrivare praticamente al nuovo all time high, anche perché tra questo livello e questo livello in effetti non c'è una reale forza a livello di impression per quanto riguarda il passato, logicamente poi può succedere da qualsiasi, quindi dobbiamo prevedere che potrebbe cambiare la storia, però possiamo comunque ipotizzare che se dovesse arrivare attorno ai 65k, non dovrebbe esserci, anzi tra i 62 e i 69, non dovrebbe esserci nessun'altra resistenza, quindi potremmo vedere una specie, una volata del genere e andare a praticamente rompere tutti i vari livelli massimi fino ad arrivare all'ultimo all time high, che dovrebbe essere attorno ai 69.700 dollari se non erro. Quindi ci aspetta praticamente solo quello se riusciamo logicamente a rompere il livello dei 53.000 dollari praticamente, che è l'ultimo della vecchia bull run ad essere ancora un livello abbastanza sentito e lo possiamo vedere in questo caso, in questo e in quest'altro caso. Andiamo a guardare poi le notizie della settimana partendo con logicamente gli ETF di bitcoin stanno assorbendo 10 volte più bitcoin di quanto i miner possano produrvel. Quindi cosa sta succedendo? È stata fatta praticamente una ricerca da secondo blockchain.com, i miner bitcoin hanno prodotto 1059 bitcoin per un valore di circa 51 milioni di dollari pari ad appena il 10% della quantità dei bitcoin che sono stati assorbiti proprio o acquistati dagli ETF spot. Questo quindi cosa comporta? Che questo aumento di prezzo è guidato praticamente soltanto dai fondi di investimento che stanno continuando ad acquistare bitcoin e se dovessero acquistarlo a questi venditi di prezzo si alzerebbe il loro prezzo medio di carico a tonno, perché logicamente io certezza non ne ho e non credo esista una certezza in nulla, perché nessuno sa realmente quando ne ha cominciato ad acquistare, però a tonno possiamo ipotizzare tra i 30 e i 40 mila dollari. Quindi praticamente andando a continuare ad acquistare a questi venditi di prezzo, continuare ad alzare l'asticella del prezzo medio di carico sempre più vicino ai 50 mila dollari. La cosa interessante è che comunque siamo arrivati ad acquistare, anzi sono arrivati ad acquistare più di 10 volte di bitcoin che possono essere prodotti, quindi stanno drenando tutta la circulating che in questo momento è disponibile sia sull'exchange, che logicamente dal mio punto di vista anche direttamente dà i vari miner, anche perché andando ad acquistare quantitativi di questo livello di bitcoin non le puoi trovare solo sull'exchange e inoltre gli acquisti non sono solo sull'exchange stessi, ma molto spesso anche over the counter. Quindi anche perché se uno dovesse acquistare direttamente da un miner, il miner non riportando questa notizia all'exchange o agli exchange che poi fanno la media per portare il livello su con il market cap o con Gecko, logicamente quell'acquisto non verrebbe rilevato come un aumento nell'inizio del prezzo stesso del bitcoin. E quindi questo è quanto e probabilmente vedremo ancora di questi acquisti per tanti 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 mesi del 2024. Andiamo a guardare inoltre un'altra notizia molto interessante che i bitcoin detenenti da BlackRock sono arrivati a oltre 100.000 BTC in gestione e questa è una cosa anche molto particolare perché i BTC che sarebbero in ticker di iShare Bitcoin Trust, quindi l'etf di bitcoin per quanto riguarda BlackRock, è uno dei, anzi è probabilmente il fondo per quanto riguarda l'etf a detenere più bitcoin all'interno del proprio portafoglio, 105.280 BTC al momento della scrittura di questo articolo. L'altra cosa molto molto importante è il fatto che in questo momento la maggior parte dei bitcoin detenuti dagli etf sono tutti detenuti all'interno di Coinbase. E io mi faccio sempre questa domanda, se dovesse fallire Coinbase e quindi dovessero essere magari non perse le chiavi ma semplicemente detenute per una questione di fallimento, è vero, è molto difficile che fallisca, ma se dovesse fallire un ente del genere, cosa andrebbe a succedere a tutti coloro che hanno acquistato l'etf di bitcoin con un bitcoin a replica fisica e quindi con un sottostante e questi bitcoin sono detenuti all'interno di Coinbase, cioè questo io non riesco a capire. È vero, ci hanno comunque dei garanti, quindi nel momento in cui dovessero andare a vendere tutte le etf, automaticamente ci sarebbe qualcuno che andrebbe a liquidare queste posizioni perché c'è una specie di assicurazione. Ma è anche vero che, insomma, è un problema abbastanza importante anche perché è quasi tutto centralizzato su Coinbase a livello di detenzione della maggior parte degli etf che vanno a replicare bitcoin. Quindi, insomma, è una domanda da porsi e mi piacerebbe che qualcuno, insomma, con informazioni migliori delle mie mi possa rispondere. Andiamo a guardare poi un'altra cosa. Gli Stati Uniti indagano su una vulnerabilità dell'app Binance Trust Wallet. Allora, c'è da dire che è una vulnerabilità presente nella versione vecchia, quindi non è qualcosa dell'ultimo momento, ma la cosa importante da definire è che questa vulnerabilità era presente nel 2018 e si è magari anche perpetrata per tanto altro tempo. Quindi, questo vi deve far capire che la sicurezza di avere comunque un wallet, anche non custodial, ma su un, magari comunque un servizio o un'applicazione sul computer, collegato sempre a internet, non è uguale a tenere una pennetta disconnessa, come può essere, per esempio, una pennetta che abbiamo tutti quanti noi all'interno del computer. Questa è la sicurezza che vi deve far capire che è molto meglio di tenere un qualcosa disconnesso da internet che è connesso a internet. Oppure, se avete una cosa del genere, tenetelo su un computer a parte e fattiglientare praticamente quel computer la vostra chiavetta. In questa maniera avete qualcosa di totalmente disconnesso, non lo connettete mai, a meno che non volete aggiornare il saldo, ma in realtà quando vi inviate il bitcoin, automaticamente quei bitcoin vengono caricati. Quindi cercate sempre di essere il più legi possibile in queste operazioni, ma soprattutto, dal punto di vista, compratemi una pennetta da 70-80 euro e fate prima. Andate poi, andiamo a guardare un'altra cosa importantissima. Bitcoin sta per entrare nell'S&P 500. L'S&P 500 non è nient'altro che un indice americano che si chiama Standard & Poor's 500. Le 500 migliori aziende a livello di capitalizzazione sono state racchiusi all'interno di questo indice che potrebbe essere anche chiamato quasi un ETF. In questa maniera, però il gigantolo non è proprio pari a un ETF, quando un'azienda entra all'interno delle 500 più capitalizzate americane, automaticamente entra all'interno proprio di questo indice. La cosa interessante è che MicroStrategy ad oggi ha 3,7 miliardi di dollari di capitalizzazione e se dovesse arrivare Bitcoin a 60k, quindi 60 mila dollari, automaticamente MicroStrategy entrerebbe a far parte delle 500 migliori aziende per capitalizzazione americane. Questo porterebbe proprio a far entrare la prima azienda che praticamente di lavoro fa avere i fondi, investirli su Bitcoin e detenere il Bitcoin. Quindi farebbe sì che entrerebbe un'azienda di diritto nelle 500 più capitalizzate, nelle linge più utilizzate al mondo, che detene Bitcoin. Solo Bitcoin e il suo lavoro è solo e soltanto detenere e acquistare e vendere Bitcoin e quindi fare profitto con Bitcoin. E questo farebbe sì che tutti coloro che acquistano l'S&P 500, core, ETF e tantissimi altri mezzi, detenerebbe parte del Bitcoin. Ed è una cosa interessante, importante e soprattutto creando un precedente storico, molto molto rilevante a livello proprio di investimento. Poi Bitcoin non è questo e tanto altro, però insomma da questo punto di vista è molto bello poter vedere una cosa del genere. Andiamo a guardare GoFundMe che blocca il crowdfunding per quanto riguarda la difesa legale di Tornado Cash, scusate. Allora, una cosa importante da dire. Tornado Cash è un progetto, è un'applicazione decentralizzata creata per fare il CoinJoin. Ok. Dopodiché, l'utilizzo che ne veniva fatto da tutti coloro che lo utilizzavano non è la colpa del creatore di questa applicazione, ma da coloro che lo utilizzavano. In effetti è come dire che viene magari mandato in carcere, non so chi, qualcuno che produce coltelli perché qualcuno ha utilizzato quel coltello per fare del male. Ma quel coltello può servire anche per tagliare per esempio la carne, può servire anche per fare un qualcosa di bene o comunque fare un lavoro che non implica un reato. E quindi in quel caso, chi è il colpevole? Chi ha dato lo strumento alla società che poi ne ha fatto il cavolo voleva o chi ha fatto quel cavolo che voleva con quello strumento. Quindi purtroppo loro hanno preferito chiudere i rubinetti alla fonte, però andare anche a incriminare il creatore, il proprietario di Tornado Cash, insomma dal punto di vista è totalmente sbagliato. Ma la cosa assurda è anche che hanno bloccato la possibilità di refornare proprio le spese legali. L'altra cosa interessante è che Bitcoin non può essere bloccato, quindi dal mio punto di vista anche Tornado Cash se avesse utilizzato Bitcoin come metodo per raccogliere fondi per le sue difese legali, dal mio punto di vista l'avrebbe fatto sicuramente, sicuramente meglio. Però vabbè, insomma, ha scelto questa linea, probabilmente ce l'aveva anche aperto, ma era quella più semplice e anche più mainstream. Ad oggi, a quanto pare, addirittura sono stati bloccati. Take you for your 10.000, ma 10.000 di donazione, vabbè insomma, sono stati bloccati comunque diversi migliaia di dollari. A me dispiace che sia successo questo. Però questo è quanto è, come sempre, Bitcoin è la soluzione alla censura, cosa che purtroppo non si capisce o non si vuole capire dal mio punto di vista. Andiamo a guardare l'ultima notizia della settimana, che è una anche delle più importanti. Se il Galaxy Digital, dopo l'Halving, il 20% della street di Bitcoin potrebbe andare offline. La cosa importante da capire è che tutti coloro che fanno mining, le fanno per avere una plus valessa. Quindi nel momento in cui io faccio mining ad oggi, dovrebbe costare attorno ai 38.000, 44.000, dipende da quanto paghi l'elettricità, però intorno ai 40.000 dollari circa, per ogni singolo Bitcoin minato. Nel momento in cui arriverà l'Halving, questo prezzo praticamente raddoppierà. E quindi l'unico modo per far sì che scenda sensibilmente il costo per singolo Bitcoin, per la produzione di ogni singolo Bitcoin, sarà quello di spegnere dei miner, perché in questa maniera, appunto, primo, sicuramente in automatico ci saranno delle mining farm che non saranno più profittevoli, ma, appunto, secondo, la cosa importante è che tutti coloro che saranno profittevoli, per far sì che venga abbassato il costo per singolo Bitcoin di produzione, dovranno, logicamente, abbassare il potere di calcolo, perché in questa maniera la difficoltà, quindi la difficoltà, quel, diciamo, parametro che si va a ribilanciare in 15 giorni, andrà ad abbassarsi. Andando ad abbassarsi, ci sarà meno difficoltà per andare a minare un Bitcoin, e quindi potranno minare un Bitcoin con un costo più contenuto, più vicino alla realtà. In realtà, questo era un problema che già ci stava portando da tanto tempo, ma, almeno per gli ultimi halving che ci sono stati, quindi fino ad oggi, che sono stati in impiare O3 o O4, siamo riusciti a reggerlo. Ad oggi, invece, abbiamo questo problema, un problema che, dal mio punto di vista, è abbastanza importante, anche perché siamo passati da 50 a 25, primo halving, da 25 a 12 e mezzo, secondo halving, da 12 e mezzo a 6 e 25, e il terzo halving, che è quello precedente, è l'ultimo che arriverà da 3 a 125, che sarà il quarto halving. Quindi, i primi tre halving siano riusciti a gestire questo problema, anzi, siano riusciti a gestire questo problema. Con questo halving si aspettano che si riesca a fare la stessa cosa. È logico, questo potere di calcolo non verrà buttato, ma verrà riutilizzato nel momento in cui il valore di Bitcoin salirà almeno a il minimo per far sì che ci sia una possibilità, una necessità, una motivazione di rimetterlo in funzione per, logicamente, continuare a fare profitto, perché non sono delle OVLUS, ma sono, logicamente, delle aziende che devono fare profitto a tutte le aziende di mining. Andiamo a guardare i soliti indicatori, come l'Haltcoin e Season, ossia l'indice che va a definire quanto siamo in Halt Season o in Bitcoin Season, ad oggi siamo 29 sul mensile e quindi molto probabilmente siamo molto vicini al Bitcoin Season. Mentre per quanto riguarda il Bitcoin Ash Reaping, ossia quello che stavamo parlando prima, quindi il potere di calcolo applicato nella blockchain di Bitcoin, non siamo all'ultima, l'abbiamo già toccato, il 7 di febbraio, ad oggi stiamo scendendo, ma è un qualcosa che, come vi ho già detto, viene calcolato in base a dei parametri, quindi non è un qualcosa di preciso, altrimenti sarebbe una linea un po' più stabile. Invece, dato che è un calcolo molto, insomma, che lascia il tempo che trova, perché sono in base al tempo di mining più, logicamente, la difficulty, viene calcolato periodicamente e non c'è un qualcosa di totalmente affidabile. Questo è il valore ad oggi che è applicato sulla blockchain di Bitcoin e quindi non siamo tanto bassi, però sappiate che potrebbe esserci un grosso calo addirittura ad arrivare a dei livelli molto, molto più bassi rispetto a qualche mese fa. Io, come al solito, vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo di mettere mi piace, commentare qui sotto, iscrivervi al canale e andate a visitare, logicamente, tutti i miei account come i TikTok. Grazie per aver visto il video, al prossimo video, ciao a tutti ragazzi! Grazie a tutti!